Non ci metto la faccia perché credo fortemente nella scuola, nel ruolo e nella funzione della scuola. Questo disegno di legge va profondamente a un'altra parte. Accogliamo minimi aspetti positivi, per quanto riguarda, soprattutto quello che riguarda la stigmatizzazione personale e cari, ma non in questo modo. Quindi chiediamo lo stralcio di questa parte e che venga fatto un degredo delice finalizzato appunto alla visione. Per il resto c'è molto da discutere. Ne chiediamo il conflitto, un conflitto positivo, diretto, che ascolti la vera voce della scuola, la voce di tutto il personale, cioè il corpo, adatto.